Il potassio e il magnesio sono i due sali minerali più apprezzati e consigliati per contrastare la stanchezza, l'affaticamento e il loro aumentato fabbisogno fisiologico nella calda stagione estiva. Tra i numerosi integratori di magnesio e potassio presenti in farmacia e parafarmacia troviamo notevoli differenze. I consumatori più attenti controllano in etichetta il dosaggio dei due preziosi minerali. Ma è davvero questo il miglior metodo per fare la scelta giusta? Guarda il video e scopri quali sono e perché i migliori integratori di magnesio e potassio. Ciao sono Milena di Detective Salute. Il magnesio e il potassio in natura non si trovano mai allo stato libero, cioè puri, si trovano in combinazione con altri elementi sotto forma di sali di magnesio e sali di potassio. Mentre per il potassio il sale combinato presente nell'integratore non è così influente per determinarne il suo assorbimento, per il magnesio il fattore più importante è proprio la valutazione dell'elemento combinato. I sali di magnesio meglio assorbiti dal nostro organismo sono di norma quelli in cui il magnesio è legato a un composto organico, ad esempio il magnesio citrato e il magnesio pidolato. Invece le altre fonti di magnesio inorganico, tra cui i più diffusi, magnesio carbonato, magnesio ossido e magnesio solfato, sono scarsamente assorbiti dall'intestino umano. Il magnesio citrato, grazie al suo sapore gradevole e alla sua buona biodisponibilità, è uno dei sali di magnesio più utilizzati negli integratori di potassio e magnesio da sciogliere in acqua, utili per contrastare e ridurre la stanchezza e l'affaticamento e mantenere costante l'equilibrio elettrolitico salino soprattutto nei mesi estivi. Quindi, quando scegli un integratore di magnesio e potassio, per prima cosa dovresti verificare negli ingredienti quale sale di magnesio è presente nell'integratore e successivamente il dosaggio dei due minerali. E se non hai voglia di andare a studiarti l'etichetta di tutti gli integratori, Detective Salute ha selezionato per te uno dei migliori integratori di magnesio e potassio disponibili in farmacia, senza zuccheri e con un buon sapore al limone. Briovitase forte magnesio e potassio della Monte Farmaco. Componenti attivi per bustina. Magnesio citrato 262,5 mg, pari al 70% del valore nutritivo di riferimento. Potassio citrato 400 mg, vitamina C 200 mg. Briovitase forte magnesio e potassio della Monte Farmaco, in formati da 10 e 20 bustine. Prezzi consigliati 7,50 euro e 13,50 euro. Elevata biodisponibilità dei sali, elevato dosaggio di magnesio e un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ricordate, gli integratori non sostituiscono una dieta variata ed equilibrata. E se vuoi sapere qualcosa di più sulle migliori fonti di magnesio, ti consiglio il nostro video, magnesio di più biodisponibili, nel nostro canale YouTube o sul sito detectivesalute.it. Un saluto da Milena e mi raccomando, se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al nostro canale YouTube.